Vincola ospia per amore, cavernacolo di Cristo e Eucaristia, aiutaci ad amare il Signore, seguendo la tua piccola via, o nostra beata Sua regia. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dalle lettere della beata Elia. Cara mamma, tu non puoi immaginare quanto ti vogliamo bene e come vorremmo saperti contenta. Quando tu non sei contenta noi lo sentiamo nell'anima. Ti prego, godi tutte le buone cose che ti porta Nicolino e cerca di sollevare questo buon nostro fratello che ha solo te. Ringrazia papà, assai, assai, del pensiero che ha per noi. Preghiamo. O Signore, per intercessione della beata Elia, benedici le nostre famiglie e rendi le cenacoli d'amore. Dona serenità agli anziani, saggezza ai genitori, speranza ai giovani e gioia di vivere ai bambini. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Darci oggi il nostro pane di quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera alla Beateria. Chilo che amo, Padre, fonde di ogni santità, che nella Beateria di San Clemente, celebra i doni della tua misericordia, e offri un esempio di vita consacrata. Ti benediciamo, Cristo, Agnello Vincolato, che nutrendo del tuo corpo e del tuo sangue, la Beata è via nel giardino del Carmelo, l'hai resa piccola ostia del tuo sacrificio. Ti ringraziamo, Spirito Divino Consolatore, che, con un anno della tua grazia, la Beateria, l'hai costituita per la Chiesa e la Città di Pari, un modello di preghiera, di perdono e di speranza. Ti preghiamo, Beata Elia di San Clemente, guidaci alla Santa Montagna, Gesù Cristo, perché possiamo contemplare il suo volto e perderci nell'oceano del suo infinito amore. Beata Elia di San Clemente, prega per noi.